Mi ha appena confessato che lui preferisce stare dietro l'obiettivo, poi se si tratta di telecamere, caro Nicola Spadafranca, è ancora più difficile stare davanti le telecamere. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Sei un dottore commercialista prestato alla fotografia, anche se dai tuoi scatti emerge tutt'altro. Sei un fotografo professionista. Sei qui perché fino al 1 ottobre a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, sarà possibile visitare la tua mostra fotografica alla fine del viaggio, nella quale in qualche modo ci sono tutte immagini che uniscono il rapporto tra migrazioni e paesaggio. Che cosa raccontano queste foto, Nicola? Allora, io in realtà volevo analizzare il nostro territorio fotografando il paesaggio. E quindi una domenica mattina mi sono ritrovato a fotografare un crocifisso affrescato su un casolare, in parte coperto da fichi d'India. E questa cosa era molto forte. Anche un effetto, diciamo, religioso. Insomma, c'erano tanti rimandi, molti rimandi. E di lì a poco è passato a una ladaniva con targa bulgara, identica alla 124, anche nel colore di mio nonno, che aveva la masseria, diciamo, a qualche chilometro da dove stavo. Quindi l'ho inseguita come se fosse un déjà vu, un richiamo. E poi a un certo punto loro hanno cambiato strada, hanno preso un tratturo per non farsi raggiungere. E io ho cercato di inseguire loro dalla strada provinciale per una questione di iscrizione. Non volevo certo spaventarvi. Io avevo una macchina blu all'epoca, quindi potevo passare come, insomma, poteva essere una macchina di carabinieri da lontano. In questo modo io ho avuto contezza del fatto che il nostro territorio stesse cambiando non solo rapidamente, ma stesse, diciamo, ma c'erano tutta una serie di nuovi abitanti che io prima non avevo mai visto. E così io ho iniziato a fare delle mappe, a seconda del fatto che in alcuni luoghi si concentravano più rumeni, in alcuni luoghi si concentravano più bulgari e in altri luoghi gli africani, a seconda se fossero, provenissero dalla, diciamo, dall'Africa francofano o anglofona e se fossero regolari o meno. e quindi a quel punto lì io ho ritenuto che in qualche maniera dovessi comprendere il fenomeno. Questo, diciamo, nei primi mesi del 2006. A luglio, no, a settembre 2006 esce un articolo a firma di Fabrizio Gatti, Io schiavo in Puglia, che racconta delle realtà ovviamente impressionanti, però corredato da alcune fotografie abbastanza leggere o comunque di circostanza, rispetto ai fatti naturalmente, poi io da appassionato di fotografia leggo anche le immagini. E niente, a quel punto lì io mi sono chiesto perché avesse avuto bisogno di corredare il suo articolo con delle immagini, comunque con delle immagini, perché non bastava raccontare, diciamo, con la parola i fatti che accadevano nel nostro territorio. E lì ho iniziato, ovviamente il linguaggio visivo è molto più potente di quello scritto. Se noi oggi volessimo affrontare, che ne so, l'argomento gulag, sì, è stato descritto da Solzhenitsyn, però ci appare una realtà virtuale molto distante e confusa. Che possiamo immaginare. Che possiamo immaginare, ma no, no. Se invece io adesso iniziassi a raccontare di Dachau e Auschwitz, immediatamente a noi ci vengono alla mente le immagini fortissime dei delitti, delle torture inerarrabili perpetrate in quei luoghi. E allora lì mi sono convinto ancora di più che bisognasse andare a vedere e bisognasse raccontare il paesaggio, il nostro territorio, attraverso delle immagini. Per lasciare poi a chiunque la possibilità di interagire con quelle immagini e farsi una propria idea. Io non voglio certo narrare alcuna realtà, ma dare una testimonianza. Intanto stiamo vedendo le tue foto, ecco, rigolosamente in bianco e nero. Solo in bianco e nero e a pellicola. Solo in bianco e nero e a pellicola. Tutte a pellicola. Infatti una delle regole del viaggio era che io ho acquistato 100 rullini di pellicola e quando finivo i 100 rullini finiva il racconto. Senza limiti di tempo. Solo quello necessario al viaggio e soprattutto al fatto che la strada mi volesse raccontare, senza un principio di giudizio, ma con molta umiltà. Io ho iniziato a viaggiare nel nostro territorio, come se dovessi raggiungere delle mete lontanissime. Quindi portando con me un libro, una macchina fotografica. Una domanda, una curiosità. Innanzitutto questi volti che tu hai raccontato, hai impresso, li hai incontrati non solo nella foto in quel momento, nelle immagini che tu hai scattato, ma li hai incontrati anche chiedendo loro qualcosa. Naturalmente immagino che tu abbia dovuto in qualche modo chiedere il permesso a loro di essere fotografati. Quindi hai avuto modo anche di entrare nelle loro storie. Allora, i primi sei mesi sono stati drammatici dal punto di vista fotografico, perché nessuno voleva farsi fotografare. Avevano paura. Tutte le volte mi chiedevano se fossi un giornalista, se fossi un poliziotto, un carabinire, perché avevano paura forse di essere sgombrati o che comunque io portassi delle conseguenze negative. Dopo un po', piano piano, cercando anche di far accettare loro la mia curiosità, sono riuscito a non spaventarli più, diciamo, perché vedendomi spesso, e comunque sempre nel fine settimana o durante i periodi festivi, a quel punto lì hanno iniziato quasi ad accettarmi implicitamente. Cioè, ogni tanto io passavo, cercavo di parlare con loro e ho sempre chiesto il permesso di fotografare. Non ho mai rubato immagini perché non era il caso. Quindi molte volte ho partecipato ai loro discorsi, altre volte ho potuto solo intuire i loro silenzi. E man mano, così facendo, entrando un po' nelle loro grazie, hanno iniziato a farsi fotografare. In particolare ce n'è stato uno simpaticissimo, che con la sua famiglia era venuto in Italia per lavorare e non occupava nemmeno un casolare, dormivano sotto degli alberi vicino a un vascone per irrigazione, per lavarsi. Quindi tra le macchine e sotto lì avevano delle coperte. E un giorno arrivo io, tra le varie volte, e mi dice, ti posso offrire qualcosa? Lui stava mangiando un uovo e aveva un bicchiere di vino fortore. Io ho visto la bottiglia naturalmente, era l'ultimo bicchiere di vino che poteva, e voleva condividerlo con me. E io gli ho detto, no, non è possibile per me. Ho detto, no, perché potrei toglierti del cibo e non mi va. Non è una questione. È come se avessi accettato. E lui mi fa, ma tu perché vieni qui? E io dico, ma guarda, è la mia passione che mi porta qui. E lui dice, ma tu lasci la tua bella casa, la tua bella moglie per stare tutto il pomeriggio con me? E ha detto, sì. E allora tu sei folle. E mi puoi fotografare. Cioè, avevo superato l'esame. E lui è stato anche poi un referral, diciamo, per presentarmi ad altri, cioè per far vedere che io in realtà ero uno che aveva molta ingenuità rispetto al problema, e che quindi aveva l'ambizione di fotografare queste, le loro storie. Storie che loro poi hanno visto, stampate. Alcuni sì, li hanno visti. E alcuni li ho incontrati anche a Foggia, loro, io in abiti da lavoro, quindi, e loro mi hanno salutato anche. Cioè, mi hanno fermato, mi hanno salutato, mi hanno detto ciao Nicola, insomma, tutto qui. Una mostra che poi è arrivata, voglio ricordare che è diventato anche un libro, questo reportage, alla fine del viaggio. Una mostra ospitata in diverse città d'Italia, e poi è arrivata in provincia di Reggio Emilia, a Gassatico. Sì, è arrivata in provincia di Reggio Emilia perché un professore universitario dell'Università di Foggia, il professor russo, mi ha chiesto alcune fotografie per corredare, non so se la comunicazione della scuola, o la sua lezione, o comunque entrambi, naturalmente. E io ho chiesto, io in questi casi non chiedo mai dei soldi, naturalmente, ma ho chiesto un'unica cosa, che venisse tutelata, e conservata, e assicurata, la dignità dei luoghi fotografati, e delle persone fotografate. Quindi, non c'era assolutamente problema, da questo punto di vista, ho inviato alcune immagini per farle scegliere. Hanno visto le immagini, dopodiché hanno ritenuto che fossero meritevoli di essere esposte, e che io andassi anche lì a relazionare sulla mostra. Ed è nato, quindi, insomma, mi hanno invitato, ed è andata anche molto bene. Io ho scelto di, così, anche di donare le stampe, quelle esposte, ho scelto di donarle all'istituto, alla biblioteca, archivio Emilio Sereni, e quindi all'istituto Cervi. Benissimo. Poi vorrei anche ricordare che questo è il, sono alcuni scappi dell'inaugurazione. E quello è il professor Russo, quello con la maglia celeste. La mostra che hai, avete deciso di dedicare a un grande giornalista, scrittore, narratore, Alessandro Leogrande. Poteva essere diversante. Qui diventa difficile. Qui diventa difficile. Sì, allora, Alessandro Leogrande ha visto il mio libro e ha fatto un articolo sul Corriere della Sera. Davvero molto, molto, molto bello. Lui aveva capito lo spirito con cui avesse affrontato il viaggio e l'ha descritto in questo articolo. È morto prematuramente, giovanissimo e quindi ci tenevo a dedicargli la mostra. La mostra che ricordiamo sarà visitabile fino al primo ottobre, quindi ancora qualche giorno per gli amici che ci seguono magari dalla provincia di Reggio Emilia. Ok. posso chiederti se hai, se c'è in cantiere qualcos'altro? Allora, io ho fatto un'altra, ho fatto un'altra mostra anche, si chiama Squame e questa volta l'approccio è completamente diverso perché io volevo distaccarmi dal reportage. Il reportage ti coinvolge molto. Sì. sono passati tanti anni e ancora mi prende molto questa emozione, queste fotografie. Quindi io a quel punto lì volevo fotografare il nulla. Il nulla ovviamente non esiste e quello che è di più prossimo il nulla ho ritenuto fossero i rifiuti e quindi per cinque anni ho fotografato rifiuti riportati dal mare sulle spiagge reinterpretando la forma, reinterpretando l'estetica. Quindi il rifiuto in realtà è un oggetto che non ha più un luogo, non ha più un tempo perché noi lo rifiutiamo o perché non ci piace più o perché è rotto o perché ci siamo insomma stancati o perché non va più di moda insomma e quindi lo abbandoniamo. C'è un termine tedesco che a me piace molto Stangult che significa di relitto ma non relitto semplice. Un relitto così come viene riportato in terra più o meno e allora lì ho pensato se era possibile reinterpretare la forma dei rifiuti per consegnarla alle nostre emozioni alle nostre sensazioni e questo è stato un altro viaggio tra virgolette molto appassionante che ha prodotto poi tutte queste immagini che sono state esposte presso la fondazione Banca del Monte che ha redatto anche che ha curato anche l'edizione del catalogo. E allora ti aspettiamo prossimamente per parlare anche di questo interessante progetto di Nicola Spadafranca che ringrazio per essere stato con noi le tue foto sono meravigliose io non sono come dire sono una profana però comunque mi piace guardarle mi piace fotografare non lo voglio dire con l'iPhone però noi comuni mortali lo facciamo per questioni pratiche lo so questo potrebbe essere anche troppo per me però voglio dire l'importante è realizzare un'immagine che emozioni il mezzo è come se io scrivessi con un abiro un altro con il computer l'importante è quello che si scrive ti ringrazio io se posso dire l'ultima cosa diciamo io sono partito che volevo analizzare il paesaggio quindi fotografare il mio territorio e l'ho raccontato attraverso dei volti i volti di quelli che oggi lo frequento perché il volto è la nostra parte più indifesa ma anche quella più rivelatrice ti ringrazio per le emozioni che ci hai donato attraverso le tue parole attraverso le foto e devo dirti che anche davanti la telecamera te la sei cavata molto molto bene io spero di sì perché ci hai emozionato te lo posso assicurare grazie grazie Nicola Spadafranca per essere stato con noi restituisco di nuovo la linea alla regia breve pausa e poi proseguiremo con una scaletta davvero ricca di contenuti quest'oggi